Ciao, sono Federica Franceschelli, numero zero dell'Eward Faenza. Una ragazza allegra, mi piace stare tanto in compagnia e molto che chiacchiera sempre, mi dicono sempre di stare zitta, perché questo lo discompo a tutti. La madre mi ha buttato nella ginnastica ritmica e praticamente dopo l'ultimo saggio, dopo due anni, vado dalla maestra senza dire niente ai miei genitori e vado a dire, guarda Mari che ti ringrazio tanto perché mi sono divertita in questi due anni, ma adesso vado a giocare a basket. L'ambizione più grande è riuscire a vincere la 1, ma proprio per ambizione mia personale, perché penso che voglio aiutare io personalmente la Faenza ad andare in a 1, perché è una realtà che se lo merita. Anche nella mia carta d'identità c'è Faenza, perché sono nata a Faenza e mi piace quando anche solo adesso giro per Faenza e c'ho il signore che mi passa di fianco e mi dice oh, mi raccomando ragazze, sabato vincete, noi siamo uniti, chiamo per voi, è un po' come come se me la sentissi nella mia città.